Non sono solo tre punti. Quella conquistata contro il Monterosi è molto di più di una vittoria. Con le pesantissime scorie del derby da smaltire, senza l'intero attacco titolare, Iemmello e Biasci, più due giocatori dal mio rendimento complessivo, Van de Putt e Brighenti, e con un ulteriore accidente dell'infortunio all'unica punta centrale rimasta in squadra a Cianci, per il Catanzaro era probabilmente il parigi risultato sperato alla vigilia. E invece, coloro che sono scesi in campo, spinti da circa 800 tifosi giallorossi, convenuti a Viterbo non solo da Catanzaro, ma da molte parti del centro e del nord Italia, hanno gettato ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo, conquistando una vittoria che mantiene inalterata le distanze delle inseguitrici e soprattutto regala nuove certezze in un campionato fin qui da incorniciare. Dopo il grande spavento con il giocatore che aveva perso conoscenza, dopo lo sconto con il portiere del Monterosi, Alia, è fortunatamente cessato l'allarme per le condizioni di Pietro Cianci, che è rientrato regolarmente da Viterbo con il resto del gruppo. Ieri si è sottoposto ad un esame strumentale alla testa che ha escluso complicazioni e solo per motivi precauzionali dovrebbe restare fermo 24-48 ore prima di riprendere a lavorare. Di fatto, Cianci salterà l'impegno di Coppa Italia in programma domani contro l'Avelino, nonché la gara di campionato contro la Gerbison. C'è, prima del prossimo turno contro i Cilentani, l'intermezzo della gara unica degli ottenuti finali contro i Biancoverdi, in programma per il Catanzaro. Per Vivarini sarà l'occasione di rivedere in campo molte delle seconde linee e alcuni ragazzi della prima delle tre che si sono ben disimpegnati nella precedente sfida contro il Potenza in una competizione che già i russi non intentano affatto snobbare.